Dopo Zara, un altro punto vendita del centro, si prepara ad abbassare la Sara Cinesca. Si tratta del negozio di abbigliamento maschile Doppelganger, aperto in corso campi qualche anno fa, che a fine mese cesserà la sua attività. L'annuncio al personale è arrivato una ventina di giorni prima della chiusura. Il negozio è tra quelli che si stanno occupando dello smaltimento delle collezioni invendute negli altri punti vendita. Da qui il cartello affisso sulla vetrina, fuori tutto, per rinnovo locali. La nuova collezione invece non è mai arrivata. All'annuncio della chiusura, da alcune commesse, è stata proposta la ricollocazione nei punti vendita presenti a Milano, Brescia e Bergamo. Salvo dunque i ripensamenti dell'ultimo minuto, domenica 23 ottobre sarà l'ultimo giorno di apertura al pubblico. Entro il 31, lo svuotamento dei locali. Per una vetrina che torna libera, altre due verranno occupate. Si tratta degli spazi sotto la galleria 25 Aprile, lato Via Verdi, dove un tempo c'erano la gelateria Grom e il negozio di abbigliamento Ljujo. Acquistati dai proprietari di Ugo Grill. In prima battuta era stato comprato lo spazio vuoto dal 2017 all'angolo tra Via Verdi e Corso Cavour. Qualche giorno fa è stata conclusa la trattativa per il negozio a fianco. La proprietà Fioni non chiuderà lo storico locale Ugo Grill. I due immobili sotto la galleria verranno uniti per creare un unico grande spazio per un'attività legata sempre al settore alimentare.